Comincia con le 40 ore la settimana a San Pietro, parrocchia che si prepara a celebrare la festa di San Giovanni XXIII domenica 16 ottobre con diverse messe durante la giornata e alle 10 quella presieduta dal Vescovo della Diocesi Nissena. A San Giovanni XXIII è stato dedicato anche un busto nell'omonima piazzetta, donato nel 2017 dalla parrocchia in occasione del 40esimo anniversario della fondazione della Chiesa di San Pietro. La statua del Papa, beatificato nel 2000 e canonizzato nel 2014, generalmente si trova vicino al fonte battesimale in prossimità di uno degli ingressi della Chiesa e a partire da questo lunedì 10 ottobre è stato spostato sul presbiterio proprio in occasione dei festeggiamenti. Una comunità parrocchiale legata a San Giovanni XXIII, il Papa Buono, Angelo Rogalli, la parrocchia San Pietro di Caltanissetta inizia l'anno pastorale con le 40 ore, 4 giorni di preghiera dinanzi a Gesù e Eucaristia, 4 giorni di riflessione anche sulla lettera pastorale del Vescovo, l'ultima lettera pastorale, l'albero e i frutti. Mediteremo su quelli che sono i frutti dello Spirito Santo. Una giornata particolare che in verità a livello liturgico si celebra l'11 ottobre, la data di inizio del Concilio Vaticano II voluto da Papa Giovanni XXIII. Quest'anno daremo maggiore solennità a questa ricorrenza e proprio a domenica 16 ottobre alla Messa delle Dieci sarà presente Sua Eccellenza Monsignor Mario Russotto, il nostro Vescovo. La sua presenza qui è legata principalmente al fatto che la diocesi di Caltanissetta, scelto quest'anno, è proprio di dedicare l'anno al Santo Giovanni XXIII. E quindi la nostra parrocchia, dove la devozione per tutta la città di Caltanissetta è particolarmente sentita, è particolarmente in festa e vive questa solennità con la presenza del suo pastore e del Vescovo, celebrando il Papa Buono.